Noi pretendiamo la verità su tutto questo perché continuare in un'azione amministrativa, continuare a galleggiare in Sicilia con un governo che non si capisce dal coso da chi ti protegge, di contro è totalmente inefficiente, oggi discutiamo anche delle risorse del sud, c'è un rilancio del sud, la Sicilia ha 2 miliardi di euro non spesi e a sentire i funzionari e i clienti della regione non c'è il personale sufficiente per fare i progetti entro il 31 dicembre, come la Sicilia che ha personale 10 volte quello delle altre regioni, allora il tema è una inefficienza amministrativa ma qua c'è una inefficienza politica.